Devo capire se posso contare su di lei. Ho perso tutto quello che avevo, molti anni fa. Questa è l'ultima possibilità di riscatto che la vita mi offre. Non posso perderla. Bene, sei la persona giusta. Gabriele, qui la situazione è drammatica. Senza Anna non possiamo vincere. Tranquilli, ho contattato un famoso agente secolo. Sarebbe? Sanna, Sanna, Sanna! È vero che la ragazza rapita è la più forte atleta del palio? No comment, mi dispiace, no comment. Bond, come procedono le indagini? No comment, no comment, no comment, no comment. Molti dubitano di lei, Sanna, e ritengono che sia stato sopravvalutato e soltanto fortunato con il pentagruppo. Sarà davvero all'altezza di risolvere questo caso? Sì, però, qui della sua d'altezza. Ha scelto Sanna, buono. Hai visto? Ti ho salvata. Eh, ma io andrei, devo fare i giochi del palio. Il palio può attendere. Stavolta non è andata bene. Magari la prossima si vede che è innamorata. Pronto. Aiuto, amore! Maria! Aiuto, aiuto!